NAPOLI E CASA TUA Napoli è casa tua e la campagna di comunicazione realizzata dai giovani volontari della ONLUS ha da passare a Nuttat per sensibilizzare al senso civico e alla cura della propria città. Nella primavera 2010, durante l'emergenza rifiuti a Napoli, l'organizzazione prende vita su impulso di quattro ragazzi che decidono di battersi per migliorare il luogo in cui vivono. Oggi sono centinaia i volontari che hanno condiviso il progetto e scelto di partecipare al rilancio della città anche attraverso la denuncia. NAPOLI E CASA TUA è l'idea che accanto allo sforzo riformatore dell'amministrazione c'è bisogno del contributo di chi tra i volontari, tra i cittadini scelga di fare una scelta di legalità, di senso civico. Dobbiamo da oggi assolutamente intensificare la lotta all'inciviltà. Ripuliremo gli spazi pubblici, le aree verdi, organizzeremo un grande evento sul parcheggio abusivo. Il video già diffuso in rete e presto veicolato sul circuito regionale di videometro gode del patrocinio del comune e dà inizio ad una più ampia campagna di valorizzazione del territorio che interesserà i diversi quartieri di Napoli. Le iniziative si concluderanno a maggio con l'affidamento di una nuova sede confiscata alla Camorra ad un'associazione del quartiere sanità. Il bene comune è soprattutto la nostra strada, la nostra città, i nostri vicoli, le nostre piazze e non le nostre case private, dove sono luoghi privati. Napoli è di tutti noi, quindi tutti noi la dobbiamo cambiare, la dobbiamo amare e migliorare proprio nelle cose che non ci piacciono. I ragazzi della città di Napoli dicono a testa alta prenditi cura della tua città perché è come prendersi cura di te stessi. Parte da noi il cambiamento, siamo ragazzi non picri che non giriamo la faccia dall'altra parte ma che invece crediamo che dobbiamo metterci in prima linea per far diventare Napoli bella quanto noi. Perché se per noi Napoli è casa nostra, vogliamo che lo sia anche per gli altri. Sono sempre due euro a piacere, grazie.